signori bentornati nelle mirabilanti avventure di johnny brown o come potete vedere qui è cambiato ogni bene perché è cambiato in menù da poco siamo arrivati nell'nba e quindi io non ci capisco più nulla e volevo migliorare un attimo il mio giocatore ma non credo di esserne capace perché qui c'è tutti gli spogliatoi e codice spogliatoio impostazioni ottieni wc consigli una roba è bene non entrare ci mai nella vita aspetto del mio giocatore però qui si può cambiare soltanto l'estetica secondo me progresso visto e considerato anche che c'è un punto esclamativo vedi vedi eccolo occhio allora distintivi possiamo aumentare un distintivo forse no 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 non mi pare perché ancora tutte le barrette colorate mi paiano indietro quindi niente invece invece vedi su progresso qui si può fare della roba da matti perché già abbiamo 297 soldi e se io aumento niente non posso prendere niente nella vita no un po di roba la posso prendere allora io direi di andare su ma io quanti soldi c'ho in realtà ma perché non sto capendo niente di quello che succede in questo gioco io posso migliorare i tiro da tre punti oppure no sì io ci dovrei avere 3.200 soldi giusto e quindi qui qui si diventa delle robe da matti è perché io miglioro attenzione miglioro un pochino ne tiro da tre punti diciamo così ta vedi vedi e poi miglioro un pochino nella schiacciata in entrata uh ma schiacciata in entrata mi fa migliorare a bestia bada lì no ora non esageriamo così è 48 perché mi garba di essere un pochino più aggressivi con la schiacciata in entrata si è finito tutti i sordi siamo leggermente migliorati e quindi penso che si possa andare a giocare è allenati con la squadra oppure ah vedi simula simula allenamento c'è l'allenamento signori che che è un si fa l'allenamento eccolo qui allora noi siamo venuti a tolcare about practice eh chi chi è che ci allena Jim Boylan oppure no benvenuto alla panestra di squadra per iniziare potrei fare degli esercizi scelti dall'allenatore la vedo male chi è l'allenatore qui a questo gioco ma nessuno non mi diano niente allora io vo di per conto mio fino in fondo niente a un tiro mai fatto Boylan si è cominciato male è un tiro mai fatto fa e poi mai subito richiamato il fischietto vediamo che vuole sta parlando l'assistente mi pare di intuire e con il quale condividiamo io lui e Boylan la stessa capigliatura dobbiamo essere più veloci se c'è un giocatore avanti la palla deve arrivargli subito e bisogna spingere in contropiede faremo su e giù per il campo attacco in contropiede due contro uno dieci tentativi per segnare sette io non ho capito niente no boh che andiamo 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 ah due contro uno bisogna segnare ho capito ho capito questo ha tirato ogni cosa ha sbagliato però non si è preso il rimbalzo che sta succedendo perché non si può andare ma c'è già il cronometro io non sono neanche arrivato di qua ancora ma ovvia ora mancano tre secondi vediamo se si riesce a costruire daglielo sto tiro è buono ce l'ha dato che è successo non ce l'ha dato niente questo qui ce lo darai oh forza vedi vedi che piano piano si piglia ritmo ma questo era un fallo eh io non ho capito quasi niente però si è guadagnato un po' di roba e si sono allungate un po' di questi livelli e quindi è buono credo ottima prova affina le giocate tre punti dalla lunga venti tentativi per segnare più triple possibili dalla punta dalla lunga distanza questa traduzione lascia un po' a desiderare eh comunque va bene io ho appena migliorato coi coi che il coso da tre punti quindi faremo una strage dove dove sono andato vai vedi te la passa in macchinario però in macchinario non è tanto preciso secondo me più o meno come noi obiettivamente la posizione stavolta è buona eh niente però non si fa canestro mai nella vita ma un verde così per sbaglio no eh ma poi c'ho Boilen qui nell'angolo come l'avvoltoio sulla spalliera che mi mette ansia ma come si fa a tirare così ma lui deve andare a fare le sue ose mi deve lasciare più spazio eh senti eh questo oso un fa un fa perché non è possibile che in tutto il suo tempo non si sia fatto un verde io tiro sempre nello stesso modo qui come in partita come dappertutto eh ovvia ooooh mezza giornata c'è volo ma forse sai che tiravo troppo da lontano e mi dovevo avvicinare un attimo per migliorare un po' le percentuali io pensavo bisognasse tirare da dove te la dava subito e invece vedi si poteva anche fare un passo più dentro e l'ho capito tardi Boilen l'ho capito tardi ora c'è da fare 35 tenta 3 tiri da 5 posizioni prima un tiro in sospensione poi un tiro in sospensione io non me ne ricorderò mai tutte queste cose eh ma c'è il pallino vedi io devo andare nel pallino non c'è verso di azzeccarlo perché non c'è verso eh tra ma sto facendo di uno schifo e ora che devo fare un me lo ricordo più un me lo ricordo più e me lo dovete di ma come si fa ragazzi avvive così ma poi mi finisci il tempo ma che gioco è e ci sono questi che ti passano il pallone e ci mettano una vita da dove devo tirare io scusate non me lo ricordo l'ho letto una volta e via quanta sofferenza guarda guarda non avere fretta è che non so dove devo andare qui niente qui posso tirare da qui ovvia il problema principale di questa cosa è capire ma allora io qui tiro e ho chiuso il palleggio e devo tirare ho chiuso il palleggio penso che sia l'allenamento individuale più tremendo della storia degli allenamenti individuali e ora ma è finito il tempo ma io non ho capito ma aveva ragione Iverson ragazzi non c'è niente da fare aveva ragione Iverson dai affina le giocate triple dall'angolo oh questa in meno è facile tripla dall'angolo e ta te ricevi bu e bordi a cane questo lo so fare insomma però quantomeno ho capito il gioco poi farò schifo al tiro ma vedi ho capito il gioco almeno guarda comunque ballano tutti sul ferro e escano che è una cosa schifosa se ci fosse la classifica di quanti ferri ho preso io sarei best scorer of all time proprio mi ovvia vedi che si è preso la mano si è preso il ritmo dalla mattonella tra e sbaglia comunque io so sempre dell'idea che in partita si tira molto meglio cioè io in partita schifo in questo modo di solito non si fa comunque nove punti non è tremenda dai ottimo allenamento mi è piaciuta l'energia ma chi è i cinesi lì cosa vuole ci posso parlare con i cinesi niente telefono che vuol dire telefono messaggi vada ai lavori social no 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 fammelo mettere via per carità di dio eeeh che che si che si può giocare ah vedi vedi facciamo un po' di freestyle quello è la vin che ha provato a schiacciare minicapo durante l'allenamento guarda Boilen questa te la dedico niente lui non schiaccia eppure gli ho alzato il tassello perché non schiaccia ma posso andare tipo anche a tirare di qua no io volevo l'altro canestro e ti dei levà è rimasto attaccato a fare i bungee jumping e mi ha fatto sbagliare i tiri da fuori volevo attaccare nell'altro canestro io se era possibile si pole che sta succedendo ma una schiacciata me la vuoi fare che t'ho alzato i livelli apposta niente io speravo che questa cosa avesse cioè giungesse ad una sua naturale un suo naturale compimento e finisse invece mi sa che qui si va avanti a oltranza eh che vogliano oh 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 che vogliano questi ma perché mi sono venuto addosso ma chi siete chi siete costui si possa nominare no ma cosa ah vedi però naviga vedi vedi ora si può andare a giocare la prossima partita gioca la partita contro Memphis sei sicuro certo che sto sicuro oh vedi che siamo belle pronti con tutti gli schemi di Jim Boyle non è vero non è realistico Boyle non ce l'ha gli schemi lui va a occhio a naso eh a cosa è servito questo siparietto che non è successo niente non ci hanno fatto vedere niente non importa siamo pronti per giocare contro i Memphis Grizzlies ovviamente si partirà in panchina però se conosco un pochino quanto è niente i miei polli secondo me stavolta un qualche minuto almeno ce lo farà giocare il mio amico Boyle anche perché sennò diventa abbastanza imbarazzante la cosa vediamo un attimo ora ci dovrebbe essere quella cosa simpaticissima di poter scorrere eccolo e ma avevate anche detto che si poteva scorrere tutto insieme più velocemente il fatto è che io non me lo ricordo come si faceva ah vedi forse forse tenendo pigiato eh vedi tenendo pigiato e sta a noi eh ma dov'è il pallone ma perché c'è una visuale io pensavo che quella fosse la visuale più tremenda e invece ce n'è una più tremenda ancora ma io gli sparo subito la tripla in faccia e lasciare anche il fallo però tra l'altro io non avevo notato ma siamo sotto di una marea quindi penso che ci sia anche un po' di spazio di garbage time vagli dentro ma sarà fallo e so falli questi ragazzi forza e trema e balla ogni osa ma è un problema giocare così eh e l'impatto con la liga l'abbiamo accusato notevolmente bada come balla e come si fa a faccanestro da quanto si fa schifo ci si è acceso anche il ghiacciolo bada il lavoro no non si può proprio giocare in NBA o come mai si fa schifo in questo modo oh chi si è bella accesa anche il getorade è la peggior prestazione che il genere umano possa ricordare secondo me questa nostra di esordio nella lega poi mi sbaglierò ma la soddisfazione di piantargli il buzzer beater in faccia ce la prenderemo secondo me no è andata malissimo e che vi devo dire però quanto meno vedi se è fatto un punto e quindi ora l'allenamento di lunedì c'è da portare le paste questo questo si il giorno dopo WC Sport Management incontro con il nuovo il nuovo agente no e bocca che fine ha fatto bocca chi se no come stai ma bocca ma ma no no sono a posto si grazie ok perfetto non so quanto Zack ti abbia detto della situazione onestamente non mi ha detto granché esatto ha detto sarebbe arrivato qualcuno per occuparsi delle faccende quotidiane il succo e il discorso è quello cos'è successo a Bygley e nei paraggi e nei paraggi solo che io lo sarò più che vuol dire non preoccuparti il mio compito è quello di farti avere i soldi ma io non ho capito che cosa sta succedendo sponsorizzazioni pubblicità mi occuperò di tutto ciò che ti serve sarà un rapporto molto speciale il nostro va bene va bene so che sei un tipo occupato hai l'agenda sempre piena perciò non intento avermi incontrato se hai bisogno va bene felice c'è Levi ma eeeh e quindi abbiamo liquidato così bocca a ciantella ma perché è vibrato ogni osa è Levi che vuole come si lei è stato un piacere poterti finalmente incontrare c'è ti ho preparato un paio di scarpe gratis fantastico che devo fare mi faceva di solo quello ma i messaggi ragazzi ma poi ma che telefonaccio brutto che ci sa vai a scarpe 2 happen e quartiere si trova alla fine della strada dopo il mio ufficio puoi scegliere qualsiasi paio nella sezione NBA in campo ok ma i quartiere ma i quartiere realizza una serie bonus giornalieri ma i quartiere andiamo in i quartiere vai ai quartiere su io se vi dovessi dire che ci ho capito qualche cosa vi direi una bugia ma comunque questi sono ma questi saranno gente online saranno altri cristiani online come me io non ci ho capito niente ragazzi sarò curioso di leggere poi i commenti di campo non mi ci fanno andare perché quando qui questo che vuole perché è arrivato tutto fogato in questo modo di campo non mi ci fanno andare quindi ora vedi al piccolo trotto noi andremo niente di campo loro non ti ci fanno andare ioio cb9 che vuole mettiti in mostra vai mettiti in mostra che vuol dire saluto no ragazzi questa roba è troppo compleata per me e mi sa che avrò bisogno del vostro intervento comunque nei camping non ti ci fanno andare in una maniera accedi non puoi accedere a questa funzione senza playstation plus si io vorrei tornare alla normalità è possibile grazie aspetta ora voglio vedere se posso pigliare la biciretta se posso pigliare la biciretta si resta se no si torna alla normalità niente niente non me la fa pigliare la biciretta non me la fa e allora si torna si torna quindi io direi sei sicuro di voler giocare la prossima partita si tanto per quanto si è fatto schifo direi che in quartiere ci andiamo dopo i prossimi episodi perché almeno avrò letto i vostri commenti e si spera che ci abbia capito qualche cosa di più di quello che si deve fare nel quartiere e ora ci giochiamo un altro un altro episodio dopo uno dei caricamenti più lunghi della storia dei caricamenti mi sembra di poter capire allora ci risiamo l'obiettivo è semplicemente fare meno schifo della travorta quello lì con la magliettina chiara è da tre giorni che c'ha il cellulare io non ho capito che cosa deve fare gli altri penso che siano degli addetti alla security e ci sono questi spezzoni totalmente immotivati presentazione della partita Zach Lavin la saltiamo bellamente e vediamo siamo nella prima settimana se lo ricordano vediamo se si riesce a entrare in campo magari un pochino meglio del meno 30 di cui siamo entrati l'altra volta però siamo contro i Toronto Raptors che sono campioni in carica in questo gioco e quindi mi sa che sarà un macello ci siamo siamo oh addirittura nel primo quarto ci hanno messo in campo abbiamo ancora una partita infatti la prima cosa che si è fatto noi si è preso e si è chiuso il palleggio però vedi subito passaggio questo ci fa guadagnare ma perché non si può neanche esistere con il pallone in mano dopo tutti questi passaggi mi dovete dare un punteggio compagno che roba da matti finta passaggio bada che lavori che cos'era qui il coso che si è messo in mezzo al pubblico a più 383 no ragazzi c'è veramente troppa roba che io non so cioè mi sembra di essere su Twitch allora siamo tornati in campo ogni secondo quarto e la partita è ancora lì lì punto a punto poi mi dovete spiegare com'è che se ne è presi 30 dai Grizzlies se gioca punto a punto con i Raptors ma al di là di questo l'obiettivo come al solito è fare meno schifo di prima si comincia subito con il ghiacciolo ma che è quella fiammata essa vedi vedi c'ha la fiammata lauri ma perché noi non ci sa mai la fiammata buono così a prendersi fallo anche senza fiammata però mi garbava di più con la fiammata stavolta non ci vibra neanche forse perché siamo in casa vedi questa cosa me la ricordavo me ne ero scordata e io so bisogna ripartire proprio dalle basi ma com'è possibile prima facevo sempre verde a tiri liberi e ora fa schifo in questo modo e non ne sta andando benissimo io non ve lo volevo dire c'è anche lo zio fester qui dietro che ha detto alziamo l'intensità ha capito coach continuate a lavorare sodo e zio fester e il problema è che fa schifo perché prima ha giocato bene e ora fa schifo siamo tornati in campo sul 50 48 quindi c'è inspiegabilmente ancora una partita abbiamo l'ultimo tiro libero di Wendell Carter junior meno uno e bisogna marcare Van Vliet eh ma qui si è preso qui abbiamo forzato il mismatch non ci dai niente per questo mismatch forzato guarda e rimbalza un attacco e poi subito oh addirittura subito ogni quarto quarto in campo anche perché poi sul finale ovviamente non ci può tenere perché si fa troppo schifo però ci abbiamo una responsabilità a questo giro oh finalmente la tripla comunque si riesce a segnare tutte le volte eh devo dire allora mi sa che tutto sommato la partita si deve essere vinta perché siamo a più 5 e abbiamo un altro tiro libero di Hobie White però ovviamente noi si guarda dalla panchina i secondi finali ne mancano quasi 8 alla fine siamo a più 6 Boylan hai visto che te l'ho vinta te l'avevo detto trofeo guadagnato vittoria mi dice ma vabbè comunque si è vinto e questo chi è Boylan o lo zio secondo me è lo zio dammi una scarpa dammi una scarpa per mio feo dagli una scarpaccia su ce l'ha regalata una anche l'amico di Boccacchantel niente noi si tira dritto allora signori io direi che per oggi potrebbe anche essere finita qui soprattutto perché mi piacerebbe indagare un attimo la situazione del quartiere ma non ho capito proprio il gioco quindi aspetto i vostri commenti qui sotto al video con Johnny Brown ci rivediamo io credo settimana prossima anche se ci stiamo avvicinando al giorno X del possibile arrivo della PlayStation 5 dovesse arrivare chiaramente vi tengo aggiornati perché poi nel momento in cui arriva la PlayStation 5 comincerà anche la seconda stagione del quasi gaming per cui ci aggiorniamo eh ci aggiorniamo un po' Grazie a tutti.